Dicono che è una bella macchina Demoliscono una Porsche Quando gli fai fare qualcosa dove la gente può Lo sfogo Questo è il risultato Dalmine, un nome, un simbolo La fonderia, il lavoro pesante Proprio ai margini della Milano-Bergam E dall'altra parte dell'autostrada Il Bolgia, il posto dove le mazze servono per demolire Demolition 9, una Porsche fatta a pezzi Dopo un'attesa lunga una notte Porte aperte alle 11.30 Ma la serata comincia dopo mezzanotte Musica house, tipi house, stile di vita house Tipi house, è tipi house Musica, vestiamo il modo proprio di questa musica Vestire come bisogna vestirsi? Bisogna vestirsi come scarpe classiche Così più o meno Pantoloni militari Scarpe così alte, magliette da renti Guarda, ci ho messo tre ore a fargli i capelli Perché come ce ne ho messo? Come sono? Belli Belli Ma i tipi house devono avere le sopracciglia come le tue? Rifare, un po' ritoccate, sì I tipi house non si impasticcano? Alcuni sì Però di meno Per evitare di far picchiare la gente in giro Ci facciamo sfogare qua Ci facciamo sfogare qua